Parliamo con Paolo Fasce, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova e Camogli. Con Paolo Fasce parliamo di un tema di grande interesse che è quello della valutazione degli alunni. Perché parliamo con lui di questo? Perché Paolo Fasce da molto tempo, anche quindi prima di essere dirigente scolastico, si occupa di problemi della valutazione e quindi ci sembra proprio la persona giusta con cui affrontare questo argomento. Nelle settimane scorse la nostra testata si è occupata del tema della valutazione, vista soprattutto in chiave formativa nella scuola primaria e un po' nella secondaria di primo grado. Ecco a Paolo Fasce io vorrei fare questa domanda, ma si può parlare anche nella secondaria di secondo grado di valutazione formativa oppure nella secondaria di secondo grado prevale l'aspetto sommativo della valutazione? Grazie di questa domanda che mi consente come dire di rompere un tabù, diciamo così. Il tabù è quello delle prassi nella valutazione della scuola secondaria. Le prassi nella valutazione della scuola secondaria sono come dire un po' antiche, ancestrali, noi abbiamo ancora in testa il concetto di voto scritto, orale, pratico. Siamo immersi nel mondo digitale ma abbiamo ancora in testa scritto, orale, pratico. Premetto che come dire il voto orale io l'ho bollato, bollinato con una nuova sigla, ce ne sono tante della scuola e quindi ne ho inventata un anch'io che è SID, quindi SID. L'interrogazione orale è spiego, studi, interrogo, dimentichi. Ecco questa è l'interrogazione orale, quindi spiego, studi, interrogo, dimentichi. E tutti noi siamo testi, basta che io chieda quando è stata firmata la magna carta libertatum? Ecco io me lo ricordo, 1215, perché la mia professoressa il giorno che è stata spiegata questa cosa si arrabbiò moltissimo perché non lo sapevamo già. No, e allora mi è rimasta impressa ma c'è stato come dire un imprinting particolare. Ma io sapevo a memoria tutte le date di Salamina, dei Greci, dei Romani, eccetera, eccetera, perché le studiavo e venivo interrogato e poi ero libero di dimenticarmele. Allora, noi possiamo continuare a iterare questa modalità così cerimoniosa della valutazione, di una valutazione sulle conoscenze, ma non lasceranno traccia. Allora io sono partito dalla lettura della legislazione vigente, che non è poi particolarmente ricca, non è che ci sono da fare studi matti e disperatissimi, basta leggere il 122 del 2009 o 2008, non mi ricordo, e il 62 decreto delegato del legislativo del 62 del 2017. Allora, vado dal 122. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale proprio della funzione docente, e qui, fin qua, ci siamo. Nella sua dimensione sia individuale che collegiale, perché naturalmente, come dire, sono io docente che valuto, ma valuto alla luce di criteri che sono stati stabiliti dal collegio dei docenti, e quindi scritti nel PTOF sostanzialmente. Nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, perché naturalmente siamo istituzioni scolastiche autonome, e quindi abbiamo il potere di gestire questa cosa. Ogni alunno ha un diritto a una valutazione trasparente, tempestiva, e qui ci siamo, perché chiaramente il legislatore ha voluto evitare che, come succedeva, perché non nascondiamoci, che comparissero dei voti così all'ultimo giorno, e quindi promozioni, rimandature, bocciature, percorsi. Trasparente, quindi devo comunicare il voto, tempestiva non lo posso comunicare dopo secoli. Ma soprattutto un altro articolo dice la valutazione al progetto, il processo di apprendimento. Attenzione, il processo di apprendimento non è l'apprendimento, cioè io devo sostanzialmente valutare se questo ragazzo è attivo nel processo di apprendimento. Il fatto che sia attivo o passivo nel processo di apprendimento deve essere valutato, fa parte delle cose che come insegnante devo osservare. Quindi quando diciamo ma si è impegnato, non si è impegnato, è oggetto di, è rilevante proprio da un punto di vista legale, diciamo così. Però al progetto del processo di apprendimento, il comportamento, perché c'è anche un voto di comportamento, sappiamo, e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità, delle carenze di ciascun alunno, i processi di autovalutazione degli alunni medesimi al miglioramento. Allora cosa intendo dire? Che questa locuzione non dice che noi dobbiamo mettere il voto scritto orale pratico, significa che ogni collegio dei docenti deve elaborare dei criteri di valutazione, delle griglie di valutazione, delle modalità di valutazione che non sono, come dire, legate, non sono vincolate a una vecchissima locuzione che risale a un decreto regio del 1925 che parla di congruo numero di che cosa? Ecco, in tutti i documenti della valutazione della scuola secondaria si parla di congruo numero di voti, mentre già nel decreto regio del 1925 si parlava di congruo numero di interrogazioni, elaborati scritti, pratici, documenti vari eccetera eccetera, peraltro c'è una chicca fatti a scuola o a casa, quindi paradossalmente, come dire, il decreto regio del 1925, gentile sostanzialmente, già diceva che si potevano fare valutazioni di cose fatte a casa che oggigiorno, diciamo così, con la didattica a distanza e le questioni che sono collegate è abbastanza rivoluzionario. Ecco, questo dell'autovalutazione è un tema molto interessante perché nelle interviste che abbiamo raccolto su questo tema, interviste fatte con diversi esperti, questo tema è emerso molto, soprattutto le persone che hanno lavorato nella scuola del primo ciclo, che ci lavorano tuttora, ritengono che l'autovalutazione sia un elemento assolutamente centrale del processo di valutazione. Da quanto capisco, anche per te è una questione centrale riferita anche agli alunni più grandi allora. Ma assolutamente è così, perché noi addestriamo per 13 anni di vita delle persone, un'epoca anche particolarmente fertile dal punto di vista degli apprendimenti, a temere la valutazione dell'adulto. Quando noi sappiamo perfettamente che nella vita adulta noi non possiamo avere un carabiniere per ciascun cittadino, quindi ciascun cittadino deve essere il carabiniere di se stesso, perché c'è qualche cosa che ci deve, come dire, indurre a monitorarci, controllarci e sviluppare le nostre capacità e competenze e i nostri programmi. Allora, questo etero controllo da parte del docente ossessivo, se non si sviluppa a fianco una autovalutazione significativa, allora produrremo legioni di persone che hanno bisogno del carabiniere. L'autovalutazione deve essere qualcosa che consente allo studente di monitorarsi e di confrontarsi. Allora, quando uno si autovaluta, poi nel confronto con il docente si sviluppa una dinamica positiva. Senti, quello che tu hai detto fin qui è estremamente interessante, direi suggestivo. Credo che ci sia però una questione di fondo. A tuo parere, per poter davvero realizzare tutto questo nella scuola secondaria di secondo grado, bastano insegnanti che hanno le competenze e le conoscenze che hanno ora, oppure sarebbe necessario implementare un ampio piano di formazione su questo problema? Sì, sono sulla scia di Dario Ianes, che recentemente ha parlato proprio della necessità di costruire una formazione per gli insegnanti della scuola secondaria, che sono ovviamente generalmente deficitari su questo fronte. Lo sono istituzionalmente, perché se uno è ingegnere e poi va a insegnare di pedagogia ne sa poco. Purtroppo abbiamo, come dire, abolito le SIS, i TFA, i FIT e quindi siamo tornati ai vecchi concorsi e dopo dieci cicli di SIS, nove cicli di SIS, tre di TFA e un FIT o giù di lì, ecco, torniamo ai vecchissimi concorsi. Quindi c'è bisogno chiaramente di una formazione, io penso che sia sufficiente, come dire, dare corpo al, mi sembra, coma 124 della legge 107 che parla di formazione obbligatoria, strutturale, permanente. Ha un piccolo difetto che poi nella frase successiva dice che sono i collegi docenti, sostanzialmente, che dicono su cosa bisogna formarsi. Ecco, manca una rendicontazione puntuale dei singoli docenti che devono dire cosa hanno fatto per la propria formazione. Io penso sostanzialmente che il Ministero dovrebbe emanare delle linee di indirizzo sulla formazione e che su quelle linee di indirizzo ciascun collegio docenti debba assicurare la propria formazione su quelle linee di indirizzo. Mi spiego, se oggi decidiamo di fare un serio lavoro sulla valutazione, lo deve scrivere il Ministero nella linea di indirizzo e poi il collegio docenti non può svicolare, non il collegio docenti, il singolo docente non dovrebbe poter svicolare. Quindi anche il discorso di Ianes, che sostanzialmente era collegato all'inclusione scolastica, anche quello è un altro tema significativo, no? Quindi voglio dire, se tutti si formano su quella cosa lì, tutti ne usciremo. C'è un grosso problema nell'ingresso, naturalmente, perché sarebbe bene che arrivassero persone già formate su temi particolari. Quindi io vedo come prioritario il recupero di percorsi tipo la SIS o il FIT, perché altrimenti non ne usciamo, avremo sempre l'ingegnere che, io sono ingegnere, però non ne sa di pedagogia e insegnare senza la pedagogia non è possibile. Bene, grazie Paolo Fasce per questo suo interessante, utile contributo sul problema della valutazione nella scuola secondaria. Ci riparleremo ancora perché gli aspetti da affrontare sono davvero tanti, quindi ci incontreremo ancora. Grazie. 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 Grazie.